La domanda è complessa perché lei mi chiede cosa c'è dietro a questo personaggio. Questo personaggio è diventato oggi quello che la sua storia lo ha fatto diventare. È stato detto giustamente prima nel filmato che fra il primo delitto, ammesso che l'abbia commesso lui, e il secondo, sono trascorsi sette anni. E fra il secondo e il terzo sono trascorsi ancora sette anni. Poi vediamo invece uno svilupparsi di delitti in un arco di tempo più ristretto. Ora è evidente che si tratta, una volta accertato che si è trattato della stessa mano, che è stato lo stesso soggetto, perché questo è stato un punto d'arrivo, in un certo senso, di una prima fase delle indagini, è chiaro che i delitti si qualificano come intuitivo, come pacifico, come i delitti sessuali che riconoscono in una specie di cocktail tutte le forme di perversioni sessuali, dal voyerismo, al sadismo, al feticismo, ed è in queste perversioni sessuali che bisogna vedere la molla iniziale del suo agire. Ecco, scusi, se l'interrompo, quale differenza c'è rispetto all'ultimo delitto e a quelli precedenti? Ci sono delle differenze? Sì, io ho partecipato al sopralluogo dell'ultimo delitto, del recente delitto e ho studiato comparativamente con i miei collaboratori i precedenti delitti. Le differenze sono notevoli, nel senso che in quest'ultimo delitto il cosiddetto mostro ha mostrato una maggiore eccitazione, ha agito anche con l'impulso, in un certo senso, mentre negli altri diritti tutto era prefigurato secondo una scena, secondo un copione. In questo caso, le circostanze sono diverse, ha dovuto agire su una coppia che era accampata in una tenda, l'uomo è scappato, non lo ha colpito mortalmente con l'arma da fuoco, ha dovuto finirlo con il coltello. E' apparso meno sicuro? E' apparso meno sicuro. Ecco, è apparso meno sicuro. Nella fase, soprattutto nella fase in cui ha sparato, è apparso in stato di eccitazione rispetto alle altre volte. Che differenza c'è tra questo assassino di Firenze e gli altri assassini, quelli più clamorosi, che purtroppo sono presenti nella storia degli altri paesi? Le differenze sono tante. Noi non abbiamo esperienza nel nostro paese di delitti di questo genere. L'esperienza dobbiamo evincere dalla letteratura tedesca e nordamericana. Ora, un primo dato che colpisce è il fatto che il cosiddetto amostro di Firenze aggredisce delle coppie, sempre, costantemente. Quindi è evidente che lui ricerca la situazione, la situazione di tenerezza, la situazione d'amore che esiste in queste coppie e questo connota questo diritto in modo del tutto diverso rispetto agli altri della storia criminale. Poi ci sono altri dati da segnalare. Dicevo prima che tutto è calcolato, tutto è prefigurato. negli altri diritti sessuali sovente si discontrano, ad esempio, strangolamenti della vittima, cioè ricerca di contatti con il corpo della vittima. Qui la ricerca di contatto con i corpi della vittima non c'è, e non c'è non soltanto perché non c'è un agito sessuale, perché non è mai esistito in questi vari diritti un agito sessuale, ma non c'è perché lui uccide, di solito con l'arma da fuoco, tranne quest'ultimo caso, almeno per quanto riguarda l'uomo, e questa prima fase esaurisce l'attività preparatoria per i suoi rituali, rituali che avvengono post-mortem sul corpo della donna. Professore, questa sequenza che non è così intensa, per un certo punto fortunatamente, che cosa spinge lui a un certo punto a uccidere? Da un momento che ci sono delle fasi di stanca direi, poi improvvisamente si riaccende questo lattus, chiamiamolo così. Che cosa può spingerlo a fare questo? Qui bisogna distinguere. Da un lato occorre tener conto che l'individuo non sceglie, l'omicida non sceglie le vittime, la ricerca delle vittime e soprattutto la ricerca della situazione che caratterizza il suo agire, dei siti e della situazione di coppia. Quindi questo rende più facile la sua azione a stagioni dell'anno e in determinati periodi. Ma a parte questa considerazione di tipo circostanziale, è da vedersi nella distanza che esiste fra un caso e l'altro, e questo non solo per questo motivo, ma anche per altri motivi che abbiamo considerato, che il soggetto ha un suo agire di fantasia, sono fantasie sadiche che lo alimentano, fra un delitto e l'altro. Questo però non ci dà alcuna garanzia che in proseguio il cosiddetto mostro non acceleri, non commetta diritti in più rapida successione. Mi viene da pensare al caso del mostro di Dusseldorf, quale per anni ha commesso diritti, poi nel 1929, quando in una fase che poi ha preceduto il crollo psicologico di questo delinquente, ne ha commesso in quell'anno 7-8, mi sembra, 8 ed è stato poi scoperto. Ecco, noi abbiamo fatto adesso un riferimento a...